ciao e benvenuto se stai guardando questo video è perché anche tu hai scelto di iniziare il tuo percorso in quella che la categoria del futuro la categoria dei creativi e percepito l'importanza del progetto che la nostra azienda ormai da dieci anni sta portando sul mercato mi chiamo luca ho 47 anni e sono il fondatore della realtà che supporta le persone in italia in questo fantastico cammino con questa fantastica azienda vorrei salutarti un paio di consigli importanti per metterti nelle condizioni iniziare da subito in maniera semplice veloce e senza avere chissà quali grandi competenze questo è il segreto e la cosa importante che avrai a supporto tutta una serie di strumenti che ti metteranno nella condizione di iniziare l'attività al meglio quindi cosa dovrei fare dovrei scegliere tra due possibilità la prima è quella di diventare distributore ovviamente tra le tue esigenze saranno quelle magari di guadagnare quelle 200 300 euro in più al mese e per questo ovviamente la persona che ti ha girato questo link o che ti ha girato questi video ti supporterà nel percorso la seconda opportunità è quella che scelgono la gran parte delle persone di iniziare per fare in modo che questa attività e questo progetto diventi il progetto della tua vita per questo ovviamente abbiamo ideato per te tutta una serie di strumenti che ti potranno mettere nelle condizioni da subito di poter essere aperitivo di poter apprendere al meglio tutto quello che serve per poter fare l'attività e per poter avere risultati da subito quindi quindi è molto semplice in questa pagina dovrai scegliere tra le due opzioni e ovviamente da subito metterti in contatto con quello che è il tuo sponsor per poter iniziare il tuo startup e la tua attività con questo ti saluto ti ringrazio per esserti affidato a noi e vedrai che insieme faremo un percorso davvero eccellente eccezionale ciao 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 ciao